oggi vi faccio vedere un modello cinese che ho preso perché ho notato che ultimamente alcune aziende stanno effettivamente migliorando i loro prodotti inoltre hanno ancora dei costi abbastanza competitivi quindi se uno piace io consiglio di prenderlo si tratta dello stedemon c05 che è una daghetta flipper anche abbastanza graziosa questo è con la manicatura jade ma si può avere con manicature con guancette di diversi colori arancioni nere verdi quello che si vuole il modello come vi dicevo è daga anche se da un lato logicamente non taglia molto particolare abbiamo abbiamo da un lato la scritta c05 14 c28 n il tipo di acciaio e dall'altro lato invece sd knife che è la stedemon il coltello ha dei liner in acciaio il sistema di sicurezza è liner lock questo è ancora nuovo quindi ancora non apre benissimo però diciamo che già è abbastanza funzionale la clip è come vedete attaccata al dato di fondo solo che non riesco a capire se effettivamente si può passare all'altro lato ma credo di no 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 c'è uno scavo che da questo lato invece non c'è come vi dicevo comunque il coltello è abbastanza bello pratico e molto lineare quindi come vedete si impugna bene e va bene per tutte le mani logicamente questo è un combat quindi va bene anche per la posizione la presa al reverse queste due piccole il flipper praticamente fa diventare due piccole guardie in modo che le dita non possano scivolare in avanti l'unica cosa è che se non si sta attenti e si gira coltello fra le mani non ci si accorge più qual è il sopra o il sotto perché effettivamente essendo naked version bisogna dargli un'occhiata o stare attenti effettivamente con le mani la chiusura è abbastanza lineare e anche l'apertura stedemon c05 stedemon c05